Siamo con Ivano Boscolo Bielo e il sindaco Mauro Armelao alla presentazione di questa prima partita in casa, giusto? Nuovo stadio, nuovo stadio tra virgolette, ma rimesso a nuovo, fatto nuovo. Vi raccontatemi qualcosa. Sì, hai ragione, domani giochiamo la prima partita in casa del campionato, che sarebbe la seconda, con la novità che è dello stadio sistemato, dopo anni la curva riapre, la curva sud, abbiamo fatto dei lavori, sono stati fatti i lavori anche nella est, abbiamo messo i seggiolini, abbiamo fatto tutte le vie di sicurezza, i bagni nuovi e per fine mese ci saranno anche le luci nuove. Anche le luci, per cui si potrà giocare anche in serale? Se serve, possiamo giocare in serale. Questo è un merito dell'amministrazione, del sindaco che è qui, con me, del vice sindaco, dell'assessore e di tutti i tecnici del comune e il loro responsabile Stefano Penzo. Siamo contenti, domani partiamo, abbiamo voglia di fare un buon campionato. La squadra mi sembra che sia... La squadra, non diciamo niente, noi facciamo partita per partita e dopo vediamo dove arriviamo. Dovrete arrivare molto in alto, che oggi si aspetta grandi cose. Speriamo, speriamo. Speriamo, speriamo.